novena a san giovanni battista quinto giorno 19 giugno nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen o glorioso san giovanni che davanti a gesù ti dicesti indegno di sciogliere i lacci dei suoi sandali ottienici la grazia di essere umili e di cercare l'esaltazione non dagli uomini ma da dio gloria al padre e al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen san giovanni battista prega per noi nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen